La tappa che parte oggi da Genga è una tappa tutta marchigiana, attraverserà tutto un territorio che ha passato un momento molto difficile, sta passando ancora un momento molto difficile perché è il territorio dove c'è stato il sisma qualche anno fa, quindi un territorio che ancora deve rinascere in un certo senso. Per noi è importante perché qui, da dove partiamo oggi, da Genga, vicino c'è la Castelletta, che è la salita di allenamento che Michele aveva in un certo senso eletto a suo momento ideale per allenarsi. Quindi oggi qua ci sono molti marchigiani, molti amici di Michele ed è bellissimo perché poi hanno anche appeso degli striscioni in giro anche sulla montagna, anche sulla torre, e quindi Michele riesce ancora a regalare tanto amore ed è ancora molto amato e io credo che continuerà a guidarci ancora tantissimo lungo questa strada sempre più sicura, sempre più a misura di tutti, diciamo. Quindi viva Genga, viva Michele, viva le Marche e la sicurezza stradale. Grazie a tutti.